De Malesani, come a dire, che gol, e ha ragione. Oh la mano sta facendo veramente un neuro-goal, complimenti a Ghezzal. Che tocco morbido, grande, grande gol, ma ha lasciato bocca aperta. Tutti si aspettavamo, ci aspettavamo il tisce da un rimpallo, Devezze nella copre. Ah, grande gol, veramente superlativo gol di Ghezzal. E qui Devezze ha mancato l'appoggio, Ghezzal con freddezza, visto Gilles leggermente fuori dai pali. E l'ha sorpreso con un grandissimo gol. Comunque è un gol figlio di un ottimo secondo tempo del Siena e credo che sia ampiamente meritato.